Occhio al live abbiamo pensato una cosa molto carina ma per realizzarla abbiamo bisogno di voi, di voi, di voi Quindi venite ai concerti Anche te vuoi venire, riprendete, cellularizzate, fotografate, catturate con ogni mezzo tutto quello che volete Qualsiasi cosa stimoli la vostra fantasia Dai vostri sforzi il nostro Marco farà nascere un video che racconterà la nostra estate insieme Insieme Un bacio, vi aspetto, ciao I rock, you rock I rock, you 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 Grazie a tutti.